Giovani, insegnanti, scuole. Sul Covid l'attenzione dell'Ulsset e Pedemontana è su queste categorie e nel suo primo incontro con la stampa il neodirettore generale Bramezza è affiancato dai dirigenti dei tre ospedali del territorio, Bassano, Sant'Orso e Asiago, degli ospedali di comunità, del dipartimento di prevenzione. Vaccinare, vaccinare e ancora vaccinare è la priorità a patto di avere le dosi in numero sufficiente. Le sedi vaccinali sono sei, Cassola, Rondobrenta, Asiago, Tiene, Schio e Arsiero. Noi ci stiamo organizzando per le vaccinazioni, avremo sei punti vaccinali in tutto il territorio aziendale, tra in un distretto e tra in un altro e qui con 24 postazioni totali e quindi avremo una capacità di vaccinazione molto molto alta. Nel momento in cui ci daranno i vaccini potremo fare veramente quella vaccinazione di massa che la nostra gente sta aspettando. Da 15 giorni i casi di positività sono in aumento, anche se non ancora preoccupante. Dai 30 a 60 casi al giorno si è passati ai 50 a 100, più della metà hanno meno di 30 anni, per questo vaccinare gli insegnanti è una priorità. Abbiamo iniziato ieri a vaccinare la popolazione che ha problemi oncologici e abbiamo iniziato ieri a vaccinare gli insegnanti, iniziando dalle scuole materne, dagli asili infantili perché i bambini non usano la mascherina. Nido e asili, poi si salirà le medie e le superiori. Il personale, docente e non docente della Pedemontana, è composto da 8 mila persone. Contemporaneamente è partita la vaccinazione dei malati oncologici, degli ottantenni ma anche degli ultranovantenni. L'80% degli anziani invitati si presenta per ricevere la dose. Non è una vera e propria ripresa, per fortuna, i numeri si stanno aumentando ma non in maniera pericolosa in questo momento. Ma lo dico a voce bassa perché la situazione può cambiare in qualsiasi momento. L'importante è essere pronti e in questa azienda siamo pronti anche a numeri peggiori.